Meno di un anno per dirsi addio. Dal primo marzo è infatti entrata in vigore la riforma del diritto di famiglia voluta dall'ex ministra della giustizia del governo Draghi, Marta Cartabia, ed anticipata di quattro mesi dal governo Meloni. La data inizialmente prevista era infatti il 30 giugno 2023. L'obiettivo della riforma è dunque quello di accorciare notevolmente i tempi sul divorzio dai attuali tre anni a meno di uno. Nella domanda di separazione giudiziale può essere anche fin da subito inserita la domanda di divorzio. Occorre comunque precisare che perché la domanda di divorzio diventi procedibile devono trascorrere sei mesi dal passaggio ingiudicato della sentenza di separazione. Altre novità importanti sono dovute all'allegazione dei documenti che, oltre alle denunce dei redditi dell'ultimo triennio dei coniugi, prevede anche di allegare la documentazione comprovante diritti reali su immobili o beni immobili registrati, estratti conti bancari, nonché un piano genitoriale nel caso che siano presenti figli minori. Dubbi e perplessità sono stati però sollevati da più parti sulla fattibilità dell'iter alla luce delle mancanze in organico del personale nei tribunali. La carenza di organico negli uffici giudiziari, ahimè, purtroppo, è una situazione cronica. Speriamo anche, grazie al PNRR, che queste lacune, queste carenze di organico vengano, se non colmate del tutto, drasticamente ridotte per un miglioramento del servizio giustizia a beneficio della cittadinanza.